Brindisi e Lecce, due realtà in cui si materializzano le alleanze a due facce dell'Udc. Lo sa bene il leader nazionale del partito, Pier Ferdinando Casini, che gestisce con ponderazione l'imbarazzo politico. Il suo partito, nel capoluogo messapico, sperimenta il cosiddetto laboratorio con il PD e SEL a sostegno della candidatura di Mimmo Consales. E a Lecce, invece, dove il candidato di bandiera si chiama Luigi Melica, è lontana parenti con cui poter stringere alleanze in vista di un ipotetico ballottaggio. Lecce è anch'essa una piazza strana per l'Udc che perde una componente del terzo polo nazionale, ossia Fli, che opta per il centrodestra. Come la vedono ci diranno gli elettori il giorno dopo le elezioni, ma l'unica cosa che so è che conosco Luigi Meli, che è una persona di grandissima serietà e competenza, per cui credo che persone come lui servano alla politica, si inserisce pienamente anche nel discorso che c'è a livello nazionale, di coinvolgere il meglio della società civile, per farle entrare in politica. Due realtà, Brindisi e Lecce, che cozzano fra loro. Ma sono questioni locali, minimizza nella piazza barocca quasi a giustificare le strategie elettorali che sono a far dei referenti territoriali. Dalla sala dell'hotel orientale a Brindisi, però, Casini riconosce l'alleanza inedita. Ho lasciato decidere ai vertici locali, dice, ma questo non ha alcuna corrispondenza con i progetti nazionali. Infatti, nei piani dell'Udc c'è altro. Di fronte alla crisi di credibilità della politica, rifare il trucco ai partiti diventa una strategia di sopravvivenza. E così il terzo polo prova ad accelerare i tempi. L'obiettivo è presentarsi all'appuntamento del 2013 con un nuovo nome, lasciando le porte aperte ai tecnici. L'Udc intanto inizia con l'azzeramento dei vertici. L'obiettivo era aggruppare un'area forte che c'è nel paese di gente che vuole pacificare e non litigare. La politica degli uni contro gli altri ha ridotto in ginocchio l'Italia. Siamo dovuti andare a chiamare Monti proprio per una pregua e una pacificazione che era necessaria, per evitare di fare la fine della Grecia. Di contro anche Berlusconi e Alfano provano a dribblare Casini. Il PDL ha annunciato clamorose novità. Una rivoluzione all'interno del partito che già fa tremare qualcuno. Le sposte che potrà dare Angelino Alfano in visita a Lecce la prossima settimana.